Ciao, sono Gaia, ho effettuato la mastoplastica additiva un anno fa, il mio post operatore è stato molto positivo e dopo una settimana si può dire che già stavo benissimo, sono stata molto seguita dal dottore in tutto questo percorso, adesso finalmente ho un seno adatto al mio corpo e per questo volevo ringraziare il dottor Antonio Rotondo e tutto lo staff che mi ha seguito in tutto questo percorso. Ciao! 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 Ciao!